we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi siamo arrivati finalmente alla settimana numero 7 di questa season 8 e la domanda che tutti ci poniamo è ma dove diamine è la stella segreta dato che nella scorsa settimana abbiamo recuperato lo standardo beh ragazzi innanzitutto eccolo qua il nostro loading screen la schermata di caricamento che questa settimana ci verrà regalata al completamento di tutte le sfide avete visto per caso dove si nasconde l'indicazione ancora no ragazzi ve lo faccio vedere io se allarghiamo in alto a sinistra vediamo la un disegno che forse non è chiarissimo in questo in questo modo ma se giriamo l'immagine guardate un po ragazzi avete capito dai che avete capito praticamente ragazzi si tratta proprio del coniglio di legno quello che avevamo già visto nella scorsa settimana e dove sono atterrato dovrebbe apparire la stella ragazzi probabilmente è proprio qua su questa pedana dietro la testa per chi non avesse capito dove siamo siamo sopra spiagge snob dove c'è proprio il conigliazzo di legno da ragazzi anche per questa settimana la stella segreta l'abbiamo recuperata io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale codice creator xiodarone noi ci vediamo in live alle 13 ciao 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 ciao